Buona ragazzi, questo è il primo foto VLOG di questo canale, vanno a letto fuori in questo canale, vabbè dai, speriamo se siete due cose perché già sento poco io, finiamoci voi, vabbè dai, stiamo portati a casa di Roby, vanno un cazzo di voi qua, con due maroni, sono tornato al mio paese, ci troviamo, ci troviamo a guarda, no? Ehm, fattulo, si trova vai, guarda, lo scontra, il Diego Olliglio, eh? e adesso andiamo sotto lasciamo andare un po' avanti così vediamo un po' di pesimo c'è delle tifoni lasciamo andare un po' avanti così lo frattiamo allora adesso è questa la nuova novità del canale che è proprio il mongolo è una nuova novità del canale speriamo che piaccia adesso proveremo un modo anche di far sentire un po' di più sti cazzo di video perché tra un po' ci fermiamo di questa regione 45 è un po' di più 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 se c'è qualcosa di interessante da rispettere ma... immagino già che ci sarà un pengetto benissimo! in un paese dove non c'è un cazzo devono fare anche queste cose mi pare giusto, il casino c'è ma non si può ma non si può guardate signori non si può un po' il cancere lì non è possibile ma bui era anche lì non si può ecco ci sono altri pazzi mamma mia c'è un cretino vedi se li diamo adesso in moto c'è un cretino ci sono entro due cretini non ci sono ecco ci sono facciamo un giro così e vediamo oh che c'è qua qui non ci sono 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 e adesso ci sono un bel rupto lì un sapore lì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.